Sei pronta per la primissima lezione di Super Jump? Sono pronta ma... Regge? Regge! Io ho preso un po' Allora, innanzitutto questo è progettato da Regge 250 kg Allora, questo è in assoluto il... Io non metto questo qua sotto Scusate ragazzi ma ecco la bella della diretta è questa che stiamo lavorando per voi E certo Sicuramente pescherà un po' di molleggio anche del nostro molleggio Ma questo è il modo più veloce in assoluto per rimettere una persona in forno Ah che ho mai provato nella mia carriera Non perché mio bambino, non perché l'ho inventato il trapunino ma perché è vero Ok l'ho visto Allora come si salta? Non si salta Ah infatti si spinge Come si spinge? Tutti i piene Tutti i piene Tutti i piene Anche con i talloni Spingi 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 E come se stessi imprendendo? Fungi può soltare? No assolutamente Ok E spingi 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 Ora chiudo poco poco Chiudo 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 Dami la mano Apre 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 Spingi 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 Chiude 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 E muore verso le ginocchia Ok C'è una bella praticità tra i gomiti e i gomiti Si Il ginocchio e le cariche Ok 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 E qua cominciamo lavorando Ok Adesso stiamo lavorando sull'egittone empatico Così vedrai che farai tantissimo che dimentini E' nato Ok Siamo lavorando con tutte Terni per tener più costanti e più diciamo centrale sul lampolino Ok 4 3 Chiudi ora 4 3 Apri ora 4 3 Chiude chiude gli chiami Spingi 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 Allora Apre 4 Chiudo 4 Chiado 4 Come va Perciò il forno di lavorare Ok E Lo senti poco facci Perchè stai lavorando con nessuna punta perché le punte, tutti quanti pensiamo che sul trampolino dobbiamo rullare il piede come se dovessimo spingere da tallone la punta per saltare per questo, bello sui taloni allora è strano la prima volta quindi un po' sui piedi posto davanti, sedere indietro come la fappella, come la fapperella ok? 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 ok la fapperella ma c'è un po' con uno ok, 4, 3, ok cambiate la mano, in avanti salto in avanti 4, quindi 8 indietro, ok? 8 indietro talloncate 4, 3, più avanti e 4 indietro 8 e 8 ok? com'è? andiamo 4 in avanti 4 in avanti, 4 indietro stringi, stringi, stringi 4 stai sentendo come se fosse una bambina? si ok? ecco 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 e non va meglio meglio ok? sempre spingi, 20 minuto spingi, spingi spingi sui taloni ecco 4, 3, 2, 1 indietro usi su braccio spingi, spingi, spingi spingi, giù indietro ancora spingi, spingi, spingi spingi dietro ancora spingi, spingi spingi ti lascia la mano incerto 4, 3, 2, 1 indietro e taloni giù taloni in giù ecco così la controlli in giù ancora indietro ancora 1 3, 4, 3, 2 ok ok adesso apriamo apriamo poco a poco queste stiamo già in giù e mi chiedo chiudono noi ok? e apriamo 2 chiudono ok e stiamo in giù e stiamo in giù non dobbiamo correre 1 4 chiudono 4 apriamo 4 e taloni giù 2 2 2 2 2 2 ancora ancora 4 ancora ancora 3 ancora 2 e 1 3 ok come sta andando? prego ok ragazzi io continuo con Elisa voi vi metterò anche un altro link il super jump nei commenti sotto se dovete continuare e vi vediamo al prossimo evento insieme se resisto no ma vai sei bravissima no ma vai no 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 no